Il Bordighera Book Festival, grazie Jenny, io ti ringrazio per questi bellissimi fiori, non abbiamo fatto una foto, non abbiamo fatto niente, ma ti voglio ringraziare perché quando nella vita si incontra una persona autentica è un po' come scrivere un libro come questo, non è un santo qualunque, nome è nomen, il mio nome è un presagio del destino e questo è il mio libro che ho presentato al Bordighera Book Festival, che tu hai letto e che sei rimasta folgorata dalle parole, tu che non leggi questi libri perché li hai sempre ritenuti dei libri un po' superficiali, un po' troppo lontani dalle tue vedute, invece mi hai fatto capire che le parole di questo libro hanno saputo abbracciare la tua coscienza e io ti ringrazio perché quando si incontra nella vita una persona autentica si incontra un mondo, un mondo di sapienza, un mondo di sapere e io sono qui proprio in questo stupendo Bordighera Book Festival organizzato da Paola Savella, grande organizzatrice di eventi dove noi scrittori abbiamo potuto essere presenti e naturalmente presentare al grande pubblico non soltanto quello che ha passeggiato qui in questa strada di Corsitalia ma soprattutto a quello di casa. Io vi auguro il mio libro, compratelo perché questo è il vostro libro del cuore. È un libro che comunque faranno anche un'afficio in cinematografica, perché non comprarlo, perché non averlo a casa prima che la cinematografia possa cambiare delle cose. Ciao a tutti da Maria Grazia Regis, io sono qui fino a domenica e se avete voglia venite a trovarli. Ciao a tutti!